ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video primo video del 2022 allora vi faccio innanzitutto i miei più sinceri auguri speriamo che questo 2022 sia decisamente meglio del 2021 incrociamo le dita tutti quanti speriamo questa cosa però vi devo dire la verità io non vedo tutta sta grande modifica il positivo è diciamo la verità vedo che la situazione non è migliorata per niente anzi sta di nuovo peggiorando non so dalle vostre parti ma anche io che sono in un paesino comunque piccolo vedo la differenza comunque speriamo che vada tutto bene lo spero veramente con tutto il cuore ma passiamo adesso ha resoconto di quello che ho fatto io per queste vacanze di natale allora partiamo dal fatto che il 24 sera e il 25 siamo stati da mia suocera abbiamo passato le feste con i miei suoceri mi levo un attimo gli occhiali perché sennò ci avete riflesso della ring light speriamo che non non c'ho una faccia devastata perché non mi sono truccata non sono truccata sono completamente struccata comunque siamo stati il 24 sera il 25 a pranzo dai miei suoceri come vi ho detto il 26 siamo stati a casa perché io non ce la facevo più c'era arrivata proprio non 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 cioè non volevo vedere nessuno e soprattutto non volevo mangiare un'altra volta e quindi siamo stati a casa il gli altri giorni fino al 31 io sono stata praticamente a casa perché perché ovunque mi girassi ovunque sentissi su whatsapp su facebook eccetera vedevo che tutti quanti facevano tamponi 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 e risultavano tutti positivi quindi mi sono detto ok statene a casa che è meglio stata la casa dice tic toc quindi siamo stati a casa mio marito no perché ovviamente doveva lavorare quindi lui è uscito comunque e però devo dire la verità è ritornato sempre presto rispetto al suo solito il che mi ha fatto pensare che anche lui avesse un po di paurina comunque il 31 invece siamo usciti cioè siamo praticamente arrivati al 31 che non non abbiamo preso niente non si sa come non si sa cioè veramente le macumbe e siamo quindi andati a fare capodanno al ristorante insieme a degli amici se mi seguite su instagram avete sicuramente visto quello che abbiamo fatto con chi ero eccetera quindi sapete benissimo di cosa sto parlando e abbiamo fatto le 4 e mezza di mattina ero devastata la mattina dopo ma non perché chissà che cosa avessi fatto ero devastata perché io se ritmi non li reggo più non ce la faccio più e quindi niente quindi siamo stati a casa abbiamo pranzato con una piadina poi la sera invece la sera mio marito è andato a prendere quello che doveva essere il nostro pranzo del primo da mio suocere l'abbiamo mangiato a cena e così abbiamo passato il nostro primo dell'anno ah e tra parentesi piccola parentesi mio figlio si è riuscito a prendere il raffreddore in quei giorni che stavamo a casa non so come ha più ha fatto continua ancora ad avere raffreddore e un po di tosse e oggi si è messo anche l'orecchio ottimo non ha niente di grave perché comunque sono corsa subito ai ripari ho fatto tamponi eccetera non ha nulla c'è un po di stato influenzale ecco e quindi niente poi il 2 era il mio compleanno ho festeggiato il mio compleanno indovinate un po' sì avete indovinato l'ho festeggiato a casa è stata la casa sì l'ho festeggiato a casa perché mio figlio non potevo farlo uscire perché logicamente l'aria non era quella giusta per farlo uscire quindi siamo stati a casa a pranzo abbiamo mangiato la pasta al pomodoro la sera invece ci siamo fatti portare il sushi abbiamo ordinato il sushi ce lo siamo fatti portare a casa e abbiamo mangiato sushi ieri era lunedì ed è iniziato ovviamente come tutti lunedì non può che iniziare nel peggiore dei modi ma lasciamo perdere questo è un altro discorso so cose lasciate stare c'è so tante altre cose al di fuori che mi hanno un po' rovinato la giornata oggi che è martedì invece finalmente sono riuscito a trovare 5 minuti per farvi appunto questo resoconto per farvi gli auguri e e sono riuscita finalmente a ritornare dalla mia estetista che mi ha trovato devastata da queste feste e che mi ha subito messo al regime depurativo comunque voi invece come avete passato queste feste l'avete passato in famiglia siete andati da qualche parte io ho visto anche alcune persone che sono partite c'è una ragazza che conosco che è nata da parigi col marito un'altra che addirittura le maldive cioè ragazzi ma magari ma magari ma magari qui non si sa neanche da andremo se state vabbè fatto sa che poi avevamo un programma un viaggio per napoli il giorno del compleanno di mio figlio ma è saltato perché quel diciamo il regalo che avevo fatto a mio figlio si è posticipato vi dico solo questo quindi si è posticipato a maggio si è posticipato a maggio quindi non è che si è posticipato del giorno si è posticipato dei mesi e quindi non andremo più a napoli e poi sinceramente non sono nel mood di andare in giro adesso ero più nel mood di andare in giro prima però mi sono rifatta guardandomi su netflix una marea di film tra cui io sono una patita dei cinepanettoni ma dei cinepanettoni quelli veramente cinepanettoni quelli con boldi e desica proprio i vecchi i vecchi tempi quelli degli anni 90 2000 e me li so visti praticamente quasi tutti li sto ancora finendo di vedere ci siamo visti tutta la serie di harry potter che hanno messo su prime e ruolo di tamburi adesso la ricominciano pure su Italia 1 quindi la rivedremo nuovamente mi sono finita l'ultima serie di l'ultima stagione di American Housewives poi ho finito no abbiamo visto il film quello di Don't Look Up mi pare che si intitoli quello con Leonardo DiCaprio bellissimo bellissimo io non pensavo fosse così bello ma soprattutto non pensavo che fosse così reale hanno messo all'interno di questo film tante cose reali che veramente succedono tutte insieme e questa è stata veramente la bellezza di questo film se non l'avete visto guardatelo perché ne vale la pena poi ho iniziato a vedere la serie di Una Mamma per Amica che devo dire la verità ho sempre visto su Italia 1 quando la mandavano il pomeriggio però non è che mi ci sono poi tanto soffermata nel tempo cioè nel senso non mi ci sono mai soffermata bene mentre la guardavo invece devo dire la verità adesso riguardandolo con riguardandolo con più attenzione mi sta piacendo molto e sto vedendo delle cose che avevo perso perché alcune puntate comunque non è che le vedevo tutte quindi alcune cose me le ero perse e invece adesso sto vedendo tutti i passaggi e poi che altro su... ah ho visto cioè raga ho visto Incanto allora parliamone ho visto il cartone di Incanto appena ho iniziato a vedere questo cartone ho fatto... cioè no ma questi io gli devo chiedere i diritti d'autore la protagonista di Incanto è uguale a me è uguale a me cioè è la mia fotocopia pure mio marito mi ha detto pure mio marito mi ha detto fatti dare i diritti d'autore su sto cartone anche mio marito mi ha detto fatti dai diritti d'autore su sto cartone perché cioè è identica spiccicata a me ragazzi se non l'avete visto guardatelo a parte che è bellissimo cioè c'ha delle colonne sonore che sono spettacolo poi io mi sono sentita un po' quasi a casa perché un po' le colonne sonore latine così mi fanno sempre un certo effetto però ragazzi veramente bellissimo un cartone fantastico dopo Coco veramente veramente bello ci sanno fa e poi che altro? ma ah ho visto il barbiere di Rio che non avevo mai visto in vita mia mi sa pisciata da risate l'hanno fatto in seconda serata su Cine 34 Cine 34 sfornà un sacco dei bei film peccato che quelli belli belli li fa in seconda serata e uno more per dar sonno però quella sera invece mi sa svegliata l'ho visto tutto e mi è veramente piaciuto veramente non l'avevo mai visto io non sono un amante di Diagabatantuomo però ci sono film tipo Mediterraneo che a me è piaciuto tantissimo però non sono poi una che ha seguito la sua carriera invece il barbiere di Rio mi è proprio piaciuto è stato veramente una figata e e poi niente ah ho iniziato un libro nuovo che adesso vi dico qual è ho iniziato questo libro qua che voi vedete senza copertina ma è questo qui ragazza serpente spina l'ho iniziato da poco infatti vedete che è quasi quasi all'inizio e me lo voglio però leggere con molta calma perché tutti quanti mi hanno detto che è molto bello come libro e io gli ho levato la sopra copertina perché sono un amante delle copertine rigide dei libri e soprattutto questa mi piace tantissimo perché mi sembra sapete quei libri un po' vecchi antichi ecco mi dà più l'idea di quei libri lì piuttosto che con le copertine tutte tutte belle belle fatte diciamo io passo dalla copertina quella tipo libro antico alla copertina quella invece tutta ricamata eccetera comunque questo è siamo andati prima di Natale da giunti in libreria ho preso altri libri sì infatti la mia libreria sta scoppiando però piano piano li leggerò mi sono imposta di leggere di più rispetto allo scorso anno però mi rendo conto che devo trovare il tempo devo esserci con la testa perché non è molto semplice per me leggere e niente per il resto stiamo tutti bene i bambini stanno bene hanno fatto hanno ricevuto un sacco di regali da Babbo Natale adesso sta per arrivare la Befana e anche lì riceveranno la loro calzetta e un paio di cosine e quindi niente io volevo solamente così fare due chiacchiere con voi ma giusto per ecco farvi gli auguri che non ve li avevo ancora fatti e per rendervi partecipi di quello che sono state le mie vacanze di Natale i miei festeggiamenti di Natale che non è che sono stati in granché però comunque sono stati molto più attivi magari di altri che sono dovuti a casa per il covid non hanno potuto fare niente eccetera quello fortunatamente quello ce lo siamo risparmiato ma vi assicuro che abbiamo abbiamo tremato abbastanza per per positivi che potevano essere entrati in contatto con con mia figlia quindi abbiamo un pochino tremato però siamo riusciti ad arrivare in columi almeno per adesso speriamo di continuare in questo modo e niente io vi mando un bacio spero che questo 2022 veramente vi porti più felicità e più gioia degli anni precedenti e spero che vada tutto bene spero che continuate a seguirmi nel mio canale cercherò di essere più presente cercherò di darvi dei contenuti anzi fatemi sapere con un commentino qui sotto se volete dei contenuti in particolare io sono sempre aperta e disponibile a tutto e vi mando un bacio fatemi sapere come avete passato queste feste e al prossimo video ciao